Look pazzesco, leone tatuato testa, ecco chi è. Durante il pre-partita di Uruguay Corea del Sud, in molti si sono concentrati sul darby napoletano tra Olivera e Kim Min-J. In tantissimi però hanno notato un calciatore con un leone tatuato sulla testa. Che ha catturato l'attenzione delle telecamere. Ecco di chi si tratta. Diretta Uruguay Corea del Sud leone tatuato in testa. Ecco chi è. Si tratta di Carlo Sebastian Sousa Silva, 36enne portiere dell'Independente e attualmente in prestito dal Mazatlan. Che è stato convocato come risverva dalla Nazionale Uruguayana. Virgola.